La tredicesima edizione della gara 10 km è un momento importante per la comunità di Telese, lo è sempre di più, l'organizzazione è sempre più spettacolare, basta girarsi intorno e rendersi conto che c'è una cura maniacale nei particolari dell'organizzazione, per questo voglio ringraziare gli organizzatori, voglio ringraziare Tiziano, voglio ringraziare Diego, ma in maniera particolare Pina, che sono insieme a tutti i volontari l'anima di questo importante evento che si terrà domani qui da noi. I partecipanti sono sempre di più, sono tantissimi, una delle persone che vengono ogni anno a gestire la gara, degli arbitri che controllano il percorso, mi ha detto Sindaco dove volete arrivare, sempre più in alto, il merito non è certamente nostro ma dell'organizzazione, sempre più in alto, una manifestazione sempre più importante. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro i quali rendono possibile questa manifestazione, che non è soltanto il running Telese, ma tutti i volontari, le centinaia di volontari e volontarie che lavorano per far sì che questa gara si possa svolgere in sicurezza, le forze dell'ordine, i carabinieri, polizia, guardie di finanza, pompieri e la protezione civile, Proloco, tutte quante le associazioni che collaborano insieme a loro per la riuscita dell'evento. Un grazie particolare a tutti i volontari e agli organizzatori. Bene, siamo qui stasera alla conferenza stampa, la prima volta che la Running Telese ha pensato di organizzare la conferenza stampa nell'arena e lo fa la sera precedente alla gara perché c'è anche la contestualità della consegna di piettorale agli atleti top che sono presenti qui alla gara internazionale di domani. È un evento che sta crescendo di anno in anno, quest'anno è la tredicesima edizione, classificata Silver Label, ovvero argento, e tre ce ne sono in Italia, Telese Terme, Roma, Bolzano. Gold è nessuna, quindi la dice lunga sulla qualità e l'organizzazione che questa gara è riuscita a ottenere in 13 anni. Comindustria è vicino a questa manifestazione soprattutto perché pensa l'associazione di Comindustria Benevento che gli eventi del genere possono essere da sprono a tutto il comparto del settore del turismo, dell'enogastronomia ma soprattutto dei settori dell'ago elementare. Proprio ieri sono stati pubblicati i dati del primo trimestre dell'ago di retti che riguardano l'exporto dell'ago elementare in Campania. Benevento, la sua provincia, ha avuto la migliore performance, il 64%, il che significa che le nostre produzioni vanno crescendo in anno in anno. È stata la migliore performance in Campania, anche se devo dire l'indice di volume che ha sviluppato questo incremento minimo rispetto ai grossi numeri dell'altra provincia. Solo 19 milioni, ma su 19 milioni di euro buona parte la fa da padrone il vino. E qui veniamo al bel contributo di quest'anno del Sanio-Falanchina, città del vino 2019. Questa sera saranno presenti i 5 sindici che sono partiti per prima rispetto a questo tema, ma poi ci saranno anche gli altri sindici che sono accotati, circa 24 i comuni che hanno sposato questo progetto Falanchina-Sanio. È un brand che lega molto il territorio, ma soprattutto lega il mondo delle imprese agricole. Tutti sanno fare un prodotto, chi lo fa migliore, chi lo fa meno buono, ma al di là di questo prodotto singolo dell'azienda c'è bisogno di un brand territoriale. L'abbiamo individuato, Sanio-Falanchina assolutamente sì, è un brand fortissimo, c'è bisogno di operazioni di marketing. Questa di oggi, la collaborazione di Città del vino con la gara di Talese, è un'ottima operazione di marketing che serve soprattutto a dare coraggio all'istituzione, agli imprenditori per sposare una causa del genere. Ho sentito poco, anzi, nei giorni precedenti, che il sindaco Fionero Panza vorrebbe tentare anche la scalata del riconoscimento del patrimonio UNESCO, condividendo ovviamente con gli altri attori del territorio. Bene, questa strada l'ha intrapresa proprio, nemmeno a farlo apposto, ma altre due zone che sono interessate da imprenditori e vitimi nicone. Le Langhe, e quindi parliamo di una zona del Piemonte, che l'ha riconosciuto il riconoscimento UNESCO nel 2014. Pochi giorni fa, proprio Valdobbiatene, che è stata l'ultima città europea del vino nel 2016, ha superato il primo step, c'è da fare il secondo, quindi questo è uno step che probabilmente possiamo giocarcelo anche noi. L'anno della città del vino, che finirà l'anno prossimo, diciamo a febbraio e marzo, servirà appunto per metabolizzare e favorire questo processo di crescita, perché una volta che finirà la città del vino saremo pronti certamente per altri progetti, come quelli dell'UNESCO. Insomma, lo sport, il verde, i prodotti anegostronomici sono tutto un mix di insieme che pochi possono vantare nella nostra provincia.